Il Meteo è presentato da... Vuoi ristrutturare la tua casa? Oggi hai la soluzione ideale! Vieni da Infinity Colors! Set trapano avvitatore con percussione e avvitatore ad impulsi Super Promo 229€ Smerigliatrice potenza 900W Super Promo 38€ Effetto sabbia Creative Desert Stone 27€ Disponibile varie colorazioni Infinity Colors In via Perpignano 247 a Palermo Benvenuti a Meteomed! La circolazione depressionaria responsabile di residuo maltempo al mattino si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi Nello specifico sul litorale tirrenico giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi anche a carattere temporalesco Sul litorale tirrenico giornata perturbata con piogge Sul litorale ionico cieli molto nuvolosi con deboli piogge in assorbimento nel corso della giornata Sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi in attenuazione dal pomeriggio Asciutto in serata Sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge in temporaneo assorbimento nel pomeriggio Nuovi deboli piogge in serata 20 deboli dei quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali La temperatura massima registrata sarà di 19 gradi e la minima di 14 Mare poco mosso, nessuna allerta meteo presente Grazie per averci seguito e alla prossima edizione Il meteo è stato presentato da Vuoi ristrutturare la tua casa? Oggi hai la soluzione ideale Vieni da Infinity Colors Ferroli climatizzatore inverter Wi-Fi Alexa Google Home 349 euro Guaina a rotoli a partire da 42,90 euro Idropittura super lavabile 14 litri 37 euro Infinity Colors In via Perpignano 247 a Palermo